Ciao! Allora, incominciamo a rifar vedere tutte le cose di Aliexpress. Tanto piano piano, mano a mano che arrivano le cose, io metto insieme i video, quindi questi saranno pezzettini di più giorni messi tutti insieme. Che carino queste arrivate! Allora, non mi piacciono questi pacchetti perché non hanno la carta bolle dentro. Infatti, in un video precedente, quel libricino di Rilakkuma era arrivato su una bustina del genere, quindi diciamo che è arrivato piegato, ammaccato, ma ci sta, non era protetto. Questo invece sì, mi è piaciuto perché è molto protetto, c'è stata messa questa carta dentro, quindi il pacchetto era molto rigido e dentro tutto questo per custodire, sono rimasti qua, per custodire questo paio di orecchini al lobo, adesso ve lo faccio vedere, è un amore, cioè io proprio quando l'ho vista mi sono innamorata, mi piacciono proprio. Questi qui, eccoli qua, questi, questi sono stupendi, mi piacciono perché sono smaltati, hanno questo effetto dorato, li ho pagati 29 centesimi mi sembra, cioè proprio una cosa, o 17 centesimi. No, perché io sto aspettando un altro paio di orecchini, è comunque roba di centesimi. Questi qua sono, questi due gattini col brillantino, dietro, oddio, allora a me sembrano perfetti, non vedo errori, non vedo sbaffature, non vedo niente, per me questi qua sono perfetti, mi piacciono moltissimo, quindi in questo posso dire che sapete sempre la faccenda del link, io però quando cerco queste cose comunque orecchini, quindi orecchini al lobo, oppure orecchini e basta, questo qui. La postina ci sta provando gusto, due pacchetti, allora di questo felicissima, adesso vi spiego, allora questo qui, e queste sono cose di Giulia, che bello che sta stupendo, è bellissimo, è morbido, è proprio velluto velluto, è morbidissimo, vedete, è morbidissimo, qui, dentro, fatto così c'ha questa, diciamo, spugnetta, cosa, per tenerlo rigido, è un bel astuccino perché comunque è abbastanza capiente, ecco, in teoria sarebbe così, dopo prenderà la forma quando ci si metterà dentro qualcosa, le orecchiette sono tutte morbidose, quindi diciamo anche dentro, cucito, fammi sentire se puzza, assolutissimamente non sa di niente, manco di cucitura, di colla, ma che tesaccio, niente, non sa di niente, quindi già questa è una grande cosa, qui comunque ci si può attaccare qualche charms perché lo permette col fatto che c'è anche la catenella, si apre qui e si mette il charms e qui si allarga il dentino e poi si apre la catenella. Questo è molto carino, questo? allora vi spiego, Giulia ama fortemente queste penne vitamine praticamente, che sono così, sono troppo carine, simpatiche, non sono molto grandi, saranno una decina di centimetri, non sono molto grandi, però lei le piaceva tantissimo, ha deciso di prendere anche questa, però me sto intrecciando, praticamente erano diversi colori, il venditore non ti, vabbè sono volate, il venditore non ti dava la possibilità di scegliere il colore quindi era random, siccome noi quando ordiniamo dagli express, noi, voi, abbiamo la possibilità di mandare un messaggio al venditore all'atto dell'acquisto e ho scritto se era possibile non inserire quello verde, quindi ho scritto, c'era anche verde, no green please, più chiaro di così è finito. Lui è stato carinissimo, carinissimo, ci ha mandato sia quello verde, ecco mia figlia non lo voleva perché diceva mamma te immagini ci arriva pure questo verde, io ho fatto no mammina, io speriamo di no, ecco perché avevo scritto no green please e invece mi hanno mandato sia quello verde che quello rosso, quindi io so felicissima perché Giulia oggi se ne trova due e penso che sarà la bambina più felice sulla faccia della terra. Il fatto poi, non è una pubblicità occulta questa, c'è un sottomano. Il fatto poi che scrivono blu tutte e due e il tratto è un bello, vedete, non è morbido diciamo, però va sicuro che è un bel blu, ovviamente dovendo andare tutto dentro questo, la parte dell'inchiostra è così piccolino, ma Giulia era più una questione diciamo di averle, ecco, queste cose, mamma mia adesso è il caso che si rompe, quindi questo qua, ma oggi sto proprio contenta. Ciao! Allora, tre pacchetti, la gioia personificata, proprio la gioia, proprio che è un proprio trasbordo di gioia. Allora, andiamo a vedere che cosa mi ha gentilmente consegnato la postina, la cassetta era piena perché ho la cassetta piccola, purtroppo io prima ho comprato la cassetta e poi ho pensato camiseria aliexpress, vabbè, pazienza. Allora, questi tre pacchetti, felicissima come al solito che ve lo dico a fa, andiamo a vedere che cosa ho preso. Allora, il primo, oh vabbè, il primo è questo ragazzi, no vabbè, sono troppo felice, io sono troppo felice. Vabbè, questo come si è io però, mamma mia che botta che ho dato, come se, come, è questo. Allora, cerchiamo di far vedere bene che non vede, non metta a fuoco, non fa più niente questa macchina, fa come gli pare. Ecco, questo qui è con l'unicorno, vorrei solo sapere come fare a togliere sto, sto, sto coso. Finalmente è arrivato. Era arrivato pure Gianmaria perché era stato lui a dirmelo che c'erano gli unicorni e gli ho detto, mandami il link che così li prendo pure io. Il fatto è che lui era arrivato, a me no. Siccome io l'ho ordinato, fai conto, due giorni dopo il suo ordine suppongo. Eccolo qua, che bello che è. Ho detto, è arrivato a lui, deve arrivare pure a me. No, ma questo è in amore. Questo me lo porto dietro. Questo è stupendo. Come se apre? Proprio washi tape, proprio carta. Guardate che bella che è. No, vabbè, è stupenda. È stupenda, è mamma mia che carina. Questi l'ho pagato 90 centesimi, un euro, un euro, no, 90 centesimi, un euro. Cioè questi ha tutti gli unicorni che ho io con le clip dell'agenda, di quando ho fatto il setup. Il gelato, la ciambella. Erika, ti stai finendo washi tape così. Ma non vedo la... Ah sì, se ripete sul pianeta si ripete. Ecco, pianeta, eccolo qua. Vabbè, è stupendo. È stupendo. Questo è proprio bello. Questo sono proprio felice perché non pensavo, quando ho visto che era arrivato a lui a me, ho detto vabbè, diciamo un'altra settimana, poi sempre in Italia devono venire. Invece no. Io fino adesso, tutti gli ordini che ho fatto, tranne due, tre, il resto mi sono arrivati tutti. Quindi non posso dire niente. Purtroppo adesso c'è stato addirittura, uno è cascato il volo, io ho ordinato gli squishy per Giulia. Vabbè, è cascato il volo, mi hanno detto che per essere risarcita dovevo fare all'airline. Oh, capaletta qua mi è rimasta attaccato. Erika, un macello sì, ecco. Però era 65 centesimi, vabbè, lasciamo perdere. Via. Quindi questo. questo è una cosa stupenda. Questo è stupendo. Dice, che cos'è? 38 centesimi, porta cellulare, questo qui. C'avevo quello di plastica, aspetta lo vado a prendere. Eccoci qua. Per intenderci è questo. Io questo l'ho pagato due euro da Tiger. Questo è il telefono di Michele e praticamente mi fa da porta cellulare, tranquillamente, comodissimo. Ok? L'ho pagato due euro. Questo l'ho comprato da Aliexpress dicendo, ah, da Tiger due euro su Aliexpress, 38 centesimi. Ho fatto l'affare del secolo. Peccato che è il porta cellulare degli Hobbit. Io non lo sapevo che era così piccolo. E che è piccolo. Cioè questo è il classico washi tape. È piccolo. Però la funzione sua la fa. Allora, questo di Michele c'ha la custodia e non gli si fa. Però ecco, comunque appoggia. Comunque appoggia benissimo. E nella maniera verticale è uguale. Cioè non gli manca niente. È semplicemente più piccolo. È un porta cellulare da borsetta. Praticamente sì. 38 centesimi. Questo andrà a finire nel carrello con me. Io sono felicissima di questo. C'avevo anche l'altro. Adesso c'ho più porta cellulari io in casa che non si sa cosa. Però questi sono veramente comodi. Quindi questo posso dire che è l'acquisto valido. L'ultimo. Questo qui di Giulia. Che è stupendo. Allora, proprio una cosa a cavaglia al massimo. Io ovviamente l'ho già aperta ma l'ho benetacito di mia figlia che metto. Tu mamma metti tutto, fai vedere tutto. Allora, questi da soli mi avevano fatto la garanzia un po' più lunga. Quindi senza che glielo chiesta io. Non ho aperto nessuna controversia e mi è arrivato subito. Cioè quando scadevano nove giorni mi hanno prolungato il tutto senza che io chiedessi niente. E adesso andiamo a vedere come scrive perché non l'ho provato. Ah ecco praticamente è un po' glitterato ma roba di poco. Cioè roba di pochissimo. E non so come funzioni. Forse una volta che finisce un colore attacca un altro, ti fa le sfumature di colore. Ma penso che sia così. qui è fatto così, è fatto. Dice Enrica che te sei fatto il gel un'altra volta? No, mi sono fatta fare da un'amica mia il semi permanente. Adesso vediamo come mi ci trovo e poi lì mi ti faccio sapere. Se mi se toglie pure questo, ciao! Niente. Visto che le unghie erano guarite mi sono fatta pure il suo semi permanente. Vediamo come viene. Comunque la cosa mi intriga parecchio perché i tempi sono cortissimi. La cosa mi piace, mi dovesse prende, me lo faccio da sola, tutto semi permanente. E che bisogna essere comunque precisi, io non lo sono. C'è il rischio di fare un pastrocchio. Vabbè questo non è un video smalti, è un video vabbè ciao. E sì, quindi niente. Vi mando un bacio, vi mando un bacio. Devono arrivare altre cose. questo è The Hobbit, questo è Favoloso, questo è The Giulia. Quindi ciao! Un bacio a tutti!